Ritorniamo in onda, Voce delle Chiese continua, prosegue il suo viaggio, do subito il benvenuto alla nostra ospite Manuela Vinai. Buongiorno Manuela, responsabile dell'ufficio 8x1000. E buon pomeriggio a tutte e tutti. Bentornata, questa volta ci vediamo, ci sentiamo solo in collegamento Zoom al telefono e sei presente insomma nei lavori del Sinodo perché proprio anche di 8x1000 ogni anno il Sinodo parla, discute, affronta diciamo l'analisi di quello che è stato e magari si proietta anche verso delle modifiche, dei cambiamenti. 8x1000 della Chiesa Valdese è metodista, quindi il tema che affrontiamo con Manuela, a cui chiediamo subito quali sono, se ci puoi introdurre in modo generale senza dare per scontato, come viene impiegato l'8x1000, che cosa c'è alla base del pensiero dietro l'utilizzo dell'8x1000? Allora intanto diciamo subito che l'8x1000 è l'8x1000 dell'imposta IRPEF che ogni contribuente in Italia può scegliere appunto e può scegliere di destinare a una confessione religiosa oppure allo Stato. Allora alla base di fondo dell'8x1000 gestito dalle Chiese Valdese e Metodiste c'è un principio di voler restituire alla società quanto ricevuto. Siamo consapevoli che sono fondi pubblici, che i contribuenti in Italia hanno deciso di destinarci per la gestione e noi cerchiamo ogni anno di farne il miglior uso possibile, ovvero di restituire alla società attraverso il sostegno delle associazioni del terzo settore, ma anche dei nostri enti diaconali, quanto abbiamo ricevuto. Quindi è un, potremmo dire che è quasi un investimento che uno fa nella propria società, ecco in qualche modo. Quali sono gli ambiti principali in cui operate, in cui vi muovete? Allora intanto abbiamo un ambito diciamo nazionale e un internazionale. La prima grande divisione. Sì, la prima grande divisione. Ogni anno riceviamo quasi 4000 richieste di finanziamento, gli ambiti a livello sia nazionale che internazionale sono praticamente tutti, cioè in ambito internazionale dall'aiuto umanitario al sostegno all'educazione, sanitario. Cioè è un ambito estremamente ampio e lo stesso è un po' in Italia, tant'è che il nostro bando viene un pochino riconosciuto come il bando in assoluto più ampio che esiste in Italia. In Italia passiamo da appunto attività culturali, il sostegno alla riduzione diciamo di problematiche legate alla povertà o alla disabilità, l'uguaglianza di genere, il sostegno e aiuto per carcerati o ex carcerati per l'inserimento di nuovo nella società, l'ambiente, gli anziani, la lotta al precariato e alla povertà. Veramente, veramente ampio. In questi anni in cui sei stata appunto alla guida dell'ufficiotto per mille, hai notato dei cambiamenti nel flusso di richieste? Cioè si sono sbilanciate un po' le richieste da un ambito all'altro? Sì, allora intanto ci siamo resi conto che la maggior parte delle richieste provengono da quegli ambiti che sono meno sostenuti con altre forme di finanziamento. Mi viene in mente per esempio la prima voce dei progetti che noi sosteniamo di più è appunto quella del miglioramento delle condizioni di vita di persone affette da disabilità sia fisica che mentale perché effettivamente soprattutto sulla mentale, soprattutto sul dopo di noi, c'è molta carenza da parte appunto dell'istituzione quindi noi riceviamo veramente tantissime richieste tant'è che è la prima voce di finanziamento dei nostri progetti. Il secondo è quello legato alle attività culturali. Anche il settore della cultura soffre molto e quindi riceviamo veramente veramente tante richieste. Queste si sono negli anni effettivamente queste due categorie hanno aumentato il loro numero di richieste tant'è che anche noi abbiamo aumentato di conseguenza il numero dei progetti approvati. Ma ad esempio mi viene da pensare il tema ambientale, parliamo tanto di sostenibilità, non è aumentato invece in questi anni? Non c'è un aumento di richieste anche di lavoro in questo ambito, in questo settore? Purtroppo no. Anche noi speravamo, infatti affrontiamo la valutazione delle richieste di finanziamento in ambito ambientale con il giusto occhio critico ma anche con la speranza di trovare qualche progetto valido. Ne riceviamo ma non tantissime, tant'è che la voce ambientale è l'ultima. Se noi facciamo la categoria delle nostre 11 voci di finanziamento, è l'ultimo posto. Ultimo posto, ma per carenza di numero di domande. Questo è curioso, sì, infatti. Anzi, vi invito, vi invito. Fateci delle proposte, il prossimo bando. Sì, esatto. Insomma, sottoporre eventuali richieste di finanziamento, anche perché ricordiamo anche le tempistiche. Allora, noi a novembre facciamo uscire le linee guida, così c'è tutto il tempo di studiarle perché il bando si apre a gennaio. Poi, noi abbiamo dei tempi piuttosto lunghi per la valutazione. Ad agosto, durante il sito, oggi pomeriggio, presenteremo infatti l'elenco dei progetti. Ogni anno ad agosto viene presentato l'elenco dei progetti approvati. L'elenco poi viene pubblicato sul nostro sito 8permillevaldese.org a settembre e così gli enti sanno che sono stati finanziati e possono iniziare. Questo è il ciclo di tutti gli anni. Quindi sul sito 8permillevaldese.org, già da novembre, trovate insomma le linee guida per poter presentare una richiesta, una richiesta di finanziamento. Ci sono tutte le spiegazioni anche sul come farlo, quali sono insomma i passaggi da seguire. Quindi insomma, si è sostenuti da questo punto di vista. Sì, sì, ci sono tantissime informazioni, comprese screenshot. Invece veniamo al tema dei flussi generali dell'8permille. Intanto, anzi, premessa, giustamente tu anche fuori onda mi ricordavi, Manuela, chiacchierando, che continua ad esserci una percentuale molto alta di persone che non effettuano una scelta. Quindi al momento della compilazione, della dichiarazione dei redditi, quando si arriva alla pagina effettua l'autoscelta per l'8permille, non si dà un'opzione. E questo però, diciamo che è un peccato, perché è un po' una mancanza anche di presa di responsabilità, di assegnazione. Ma non solo, io lo dico in diverse occasioni, se non scegli, sceglie qualcun altro al posto tuo. Perché molti sono convinti che se non scegli, se non decidi, viene ripartito in base alle scelte effettivamente fatte. Per cui ad oggi siamo quasi al 59%, più della metà, che non esercita questo diritto. Ed è un vero peccato. Quindi noi nel nostro piccolo siamo intorno al 2,98%, quindi siamo intorno al 3%, ma ci sono lo Stato che è arrivato al 24%, la Chiesa Cattolica è arrivata al 70%. Cioè comunque, comunque qualcun altro gestirà quella tua piccola quota come tu non hai deciso. Sì, e in ogni caso è una quota che deve essere devoluta. Per forza. Non è che non scegliendo non la si devolve a nessuno. Attenzione, molti pensano che sia come il 5 per mille. Non è come il 5 per mille. È vero, a volte varrebbe la pena spendere un po' più di informazioni su queste modalità di assegnazione. Quindi, insomma, l'appello è davvero quello di effettuare una scelta. Una scelta, peraltro, anche ricca, perché ormai le proposte ce ne sono. E si può scegliere tra una serie di realtà appartenenti alle Chiese Evangeliche, al mondo evangelico-protestante, ma anche non, quindi sicuramente le comunità ebraiche sono presenti, così come, insomma, la Chiesa Cattolica e varie altre rappresentanze di confessioni. Rispetto invece al flusso, ecco, agli introiti in questi anni anche dell'8 per mille della Chiesa Valdese Metodista, c'è stata un po' una discesa. Ma ne abbiamo già parlato e ci ricordavi che era legata anche agli anni del Covid. Sì, le persone, comprensibilmente, reagiscono a quello che gli accade intorno. Quindi, con il Covid, negli anni, diciamo, della dichiarazione dei redditi in pieno Covid, in pieno pandemia, c'è stato uno spostamento importantissimo verso lo Stato. Lo Stato, negli ultimi 5 anni, ha preso 10 punti percentuali, tanto per darvi un'idea. È comprensibile negli anni del Covid, ma in realtà ci stiamo rendendo conto, analizzando gli ultimi dati del 2026 che sono arrivati, quanto numero di firme, che le persone reagiscono, per esempio, nel 2023 c'è stata l'alluvione in Emilia-Romagna e quindi lo Stato su questo ha fatto un balzo per la categoria, all'interno delle scelte che puoi fare per lo Stato, delle calamità, perché effettivamente anche lo Stato offre una gamma di possibilità tra l'edilizia scolastica, la fame nel mondo, l'aiuto ai migranti, le attività culturali. Insomma, offre una possibilità di scelta e quindi le persone un po' reagiscono. Il punto è che reagiscono sempre le stesse. La quota di chi non firma è in aumento, cioè sta aumentando. Ogni anno prende un punto in percentuale in più, quindi cresce sempre di più le persone che non esprime. E invece, insomma, voglio dire, lo Stato, noi, le altre confessioni religiose, l'otto per mille è veramente un'opportunità, un'opportunità di investimento, come dicevamo prima, di riportare all'interno della propria società sotto varie forme e come più si preferisce, secondo la propria sensibilità e anche spiritualità, quello che si è ricevuto. Certo. Che dire? Bocca al lupo, buon lavoro. Viva il lupo. Insomma, il più è fatto, però ovviamente il flusso, come dicevi tu, non termina mai, è sempre una ruota che continua. Il flusso non termina mai, oggi pomeriggio annunciamo l'assegnazione di quasi 40 milioni di euro per circa mille progetti in Italia e quasi 400 all'estero, di cui siamo, diciamo, fieri, orgogliosi e pronti a lavorare. Per maggiori informazioni, rimando sempre al sito, che è 8permillevaldese.org, un sito dove trovate le informazioni, gli esempi di alcuni progetti che sono stati supportati, quindi dei video, dei reportage che ve li raccontano più da vicino. Insomma, un modo, i numeri, i numeri che avete segnato. I numeri, ma anche l'elenco dei progetti dettagliato. L'elenco dei progetti, i luoghi. Quindi, insomma, una trasparenza, direi, che è anche poi una garanzia, no? Per coloro che hanno scelto questa scelta e che è un po' un fiorallocchiello che caratterizza l'8permille delle nostre chiese valdesi metodiste. Grazie, Emanuela Vinai. Buon lavoro a te e a tutto lo staff dell'ufficio 8permille. Grazie a voi tutti.